Si può imparare l'italiano leggendo e parlando di libri? Secondo me sì, è per questo motivo che ho deciso di parlarvi di libri in alcuni dei miei episodi e ho deciso di chiamare questa serie book club perché in questo modo penso di stimolare la lettura degli studenti della lingua italiana. Il libro di cui parliamo oggi si chiama Storia perfetta dell'errore di Roberto Mercadini che è uno youtuber, attore teatrale, filosofo di cui vi parlerò alla fine del video. Nel frattempo vi dico che è un libro che a me è piaciuto tantissimo e che vi consiglio nel caso in cui abbiate un livello di italiano superiore al B1. È un libro che parla di una storia d'amore tra due persone e queste due persone sono Pietro e Selene e durante tutto il libro Pietro cerca di riconquistare Selene e quindi cerca di ricucire la loro relazione, la loro relazione sentimentale. Partendo dal titolo, il titolo Storia perfetta dell'errore è un controsenso perché un errore difficilmente è perfetto, così come un... un po' come un ossimoro, come dire un silenzio assordante, è un controsenso. Il titolo di questo libro è un controsenso. I due personaggi principali della storia sono appunto Pietro che è il fidanzato e Selene che è la fidanzata ma in realtà all'inizio della storia sono degli ex fidanzati perché Selene ha lasciato Pietro ed è andata via per sempre, è scomparsa e non ha lasciato alcun contatto, alcuna traccia a Pietro che quindi non sa come rintracciarla, non sa come raggiungerla, non sa come ritrovarla, non sa dove si trovi. L'unica cosa che Pietro conosce è la sua mail. Selene non è impazzita, non è andata via all'improvviso, ha lasciato Pietro e ha deciso di vivere una vita da sola, una vita da nomade perché le è stata diagnosticata una malattia che si chiama disturbo esplosivo intermittente ovvero un disturbo che porta la persona ad avere degli scatti di ira o di aggressività all'improvviso. Quindi Selene ha deciso di abbandonare Pietro, di lasciarlo perché pensa di poter essere per lui un pericolo. Tutto il libro si basa sul fatto che Pietro accetta questa cosa, accetta questa sua malattia e comunque vuole stare con lei, comunque vuole far sì che i due continuino a stare insieme e quindi questa storia perfetta dell'errore in realtà è una storia d'amore in cui lui cerca di spiegare a Selene perché vale la pena andare avanti in questa relazione anche se Selene a questa malattia. Tuttavia come vi ho detto Pietro non sa dove Selene si trovi, non sa con chi sia e non sa cosa stia facendo. Gli è rimasta soltanto la mail a cui invia appunto delle mail ogni settimana, ogni venerdì o sabato, scrivendo delle piccole storie che riguardano l'errore o riguardano diversi argomenti che sono tipici dell'autore perché l'autore ha diversi interessi, è una persona che è appassionata di biologia, di fisica, di evoluzione, di cultura ebraica o cultura giapponese e lui parla di questi argomenti anche sul suo canale youtube. Questo libro è adatto agli studenti della lingua italiana proprio perché stiamo parlando di una serie di piccole storie unite una all'altra da uno stesso motivo e il motivo è riconquistare Selene quindi lui invia una serie di storie a Selene in modo tale da poterla riconquistare, in modo tale da farle capire che un errore non è un fattore limitante ma può essere una opportunità per loro come coppia, un'opportunità per la loro crescita. Come vi ho detto il libro parla di tante piccole storie che contribuiscono alla storia generale e voi mi potreste dire sì Simone ma queste storie quanto sono grandi? Eh ho deciso di leggervene una con il permesso dell'autore che spero mi dia a posteriori quindi dopo aver visto il video se mai lo vedrà caro Roberto ti ringrazio e se non me lo dovesse dare mi banneranno da youtube per sempre questa è una storia esempio all'inizio degli anni 80 c'era una band all'apice del successo si chiamavano van allen non so se esistano ancora ma allora erano famosissimi il loro show era una cosa imponente giravano in tour con degli enormi auto articolati al seguito sai per contenere tutta la strumentazione gli impianti luce e audio la scenografia eccetera insomma quando qualcuno li ingaggiava per uno spettacolo ecco loro avevano delle richieste tecniche molte richieste tecniche e richieste molto precise sulla logistica sulle misure del palco sulla sicurezza cos'è così il contratto era dettagliatissimo pagine 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 di richieste tecniche fra queste ce n'era una apparentemente assurda era fra le ultime e l'avrebbe letta solo chi avesse avuto la pazienza di esaminare il contratto punto per punto ivan allen chiedevano che nei camerini ci fossero delle ciotole di m&m's m&m's rossi arancio gialli verdi blu ma non marroni non doveva esserci nessun confetto marrone altrimenti il contratto prevedeva che il concerto venisse annullato e che l'organizzazione pagasse comunque il compenso per intero per un solo m&m's marrone capisci e siccome da quando sono sul mercato gli m&m's sono confezionati con colori misti occorreva acquistare i pacchetti aprirli svuotarli nelle ciotole e poi togliere i confetti marroni uno a uno non c'era altro modo la voce che girava nell'ambiente era che i van allen fossero impazziti che la fama gli avesse dato alla testa e che il narcisismo li avesse portati al delirio invece dietro questo apparente capriccio c'erano lo spavento e la rabbia di una tragedia scongiurata nel tour precedente era successo che diversi organizzatori trascurassero le specifiche tecniche così alcuni strumenti erano stati danneggiati ma soprattutto una persona dello staff aveva rischiato di morire folgorata dalla corrente elettrica così i van allen aggiunsero quella richiesta quando arrivarono sul posto del concerto ed entravano nei camerini i membri della band cercavano le ciotole di m&m's se mancavano i confetti marroni allora poteva significare solo che gli organizzatori avevano letto il contratto in ogni parte fino alla fine rispettando le richieste nel modo più scrupoloso e accurato al contrario se nelle ciotole c'era una normale percentuale di m&m's marroni o se non c'era nessunissima ciotola di m&m's il che era lo stesso allora significava che probabilmente il contratto era stato letto in modo distratto e superficiale o non era stato letto affatto e non si poteva sperare che le richieste tecniche fossero state rispettate urgeva un controllo ulteriore nei casi peggiori si poteva decidere di annullare il concerto per davvero m&m's marroni per loro voleva dire pericolo di vita e la storia dimostra che ci sono casi in cui piccoli gesti come togliere uno a uno i confetti marroni da una ciotola possono essere la testimonianza di un grande lavoro un lavoro che può perfino segnare la differenza fra la vita e la morte ecco questo era un breve episodio o una breve storia delle tante che ci sono all'interno del libro che riguardano diversi argomenti e secondo me gran parte di quelle storie sono molto molto interessanti quindi vi straconsiglio di leggerlo e di studiarlo e magari di leggerlo anche più di una volta un altro motivo per cui ogni studente di lingua italiana dovrebbe leggere questo libro è che roberto mercadini è una persona estremamente scrupolosa verso la lingua italiana infatti ogni volta che si trova davanti a un modo di dire o a una parola lui la analizza quindi analizza diverse espressioni o diversi modi di dire come ad esempio pesce fuor d'acqua non c'è rosa senza spine spuntare come i funghi o fare la fine dei topi che sono tutte espressioni che lui mette in un contesto e di cui parla e di cui prova a dare un suo punto di vista o una sua opinione allo stesso modo lui spiega anche l'espressione o la parola porco e perché utilizzare questa parola come la usano gli italiani è un modo non corretto di utilizzarla la fine di questo libro qual è? Pietro riuscirà a riconquistare Selene? non ve lo dico perché altrimenti vi spoilerò il finale quindi fatemi sapere se un giorno leggerete questo libro come va a finire e se la storia o l'insieme di storie vi è piaciuto raccomandazione prima di leggere il libro sappiate che probabilmente non capirete il cento per cento di quello che viene detto durante la prima lettura ma magari con un po di sforzo o con un po di impegno riuscirete a capirlo tranquillamente una parentesi finale sull'autore Roberto Mercadini ha un canale youtube che mi piace tantissimo perché parla di diversi temi tra cui attualità filosofia biologia scienze cultura ebraica tante cose e mi piace tanto come persona e come studioso e come si approccia ai temi che non conosce mi piace davvero tanto spero anche un giorno di poter andare a vedere un suo spettacolo un suo monologo visto che è molto famoso per i monologhi in Italia che dire spero che questo video vi sia stato utile che vi sia piaciuto ci vediamo nel prossimo video se vi iscrivete o lasciate mi piace ci sono più possibilità che ci rivediamo quindi mi raccomando e poi un'altra cosa che potreste fare scrivermi nei commenti un libro di cui vi piacerebbe che io parlassi perché in questo modo il club del libro diventa più bidirezionale e io ascolto le vostre richieste e posso parlare di un libro che viene dal pubblico viene dai commenti e non un libro che viene dalla mia dai miei interessi va bene ci vediamo nel prossimo video è stato bello come sempre buon weekend buono studio della lingua italiana buona vita ciao i due principali i due personaggi